Ciao i miei amici, sono i miei carabinieri e i mugiki. Ora diamo il piede per il mio top recipe. Copp, 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 copp! In questo lavoro, mi concentrerò sul preparato a scapilar cochi, che ha guadagnato riconoscimento tra gli allevatori in tutto il mondo. L'obiettivo di questo studio è valutare l'efficacia di questo prodotto e determinare il suo impatto sulla salute dei piccioni. Il preparato a scapilar cochi viene somministrato ai piccioni in base alle loro condizioni di salute. Si raccomanda di utilizzarlo per un periodo di 5-7 giorni, somministrando 1,5 ml di preparato per litro d'acqua. Dopo il periodo di trattamento, il preparato dovrebbe essere somministrato 2-3 volte a settimana per tutto l'anno. Questo regime ha lo scopo di mantenere gli uccelli in condizioni di salute ottimali e la loro resistenza alle malattie. L'uso di scapilar cochi mostra un impatto significativo sull'organismo dei piccioni. Il preparato stimola il sistema immunitario, consentendo agli uccelli di difendersi più efficacemente dalle infezioni e dalle malattie infettive. Le ricerche indicano che a scapilar cochi non solo supporta la prevenzione, ma agisce anche nei casi di problemi di salute già esistenti, come le infestazioni da vermi o acari delle piume. Oltre ai piccioni, questo preparato è efficace anche per altri uccelli, come canarini, pappagalli e diamantini, oltre che per animali come oche e conigli. Ciò dimostra la versatilità di a scapilar cochi e il suo utilizzo in diverse condizioni di allevamento, da aree desertiche a giungle in Europa. A scapilar cochi si distingue tra gli altri prodotti disponibili sul mercato per la sua versatilità e efficacia. Gli utenti del preparato segnalano miglioramenti nella salute e nelle condizioni dei loro uccelli, il che si traduce in migliori prestazioni durante i voli e in una maggiore fertilità. Questo preparato può essere considerato non solo un integratore alimentare, ma anche un elemento essenziale per la terapia e la prevenzione della salute. Le ricerche condotte tra gli allevatori confermano che a scapilar cochi è il prodotto numero uno nelle loro pratiche, suggerendo la sua alta qualità e efficacia. È importante sottolineare che l'uso regolare del preparato durante tutto l'anno contribuisce a mantenere i piccioni in ottime condizioni, il che è cruciale per la loro salute e prestazioni a lungo termine. A scapilar cochi è un preparato che merita un riconoscimento speciale nel campo dell'allevamento dei piccioni. Il suo utilizzo contribuisce a migliorare la salute, la forza e la fertilità degli uccelli, nonché la loro resistenza alle malattie. Pertanto, si raccomanda un uso regolare di questo preparato nell'allevamento dei piccioni e di altri uccelli, in quanto contribuirà a ottenere migliori risultati nella riproduzione e nella salute. Peseuca Goembi d'Irlandia, la formazione del rischio di Kulbaki in l'isola, per il tuo bellissimo pizionio di Kulbaki. Ora vi mostro il pizionio. Siamo in gastanza, la formazione del rischio di Kulbaki. Grazie a tutti.